Ciao a tutti, in questo video parlerò di Lenin, questo video mi è stato molto richiesto perché recentemente ho fatto anche il video sulla rivoluzione russa, ho fatto video su Lizar, ho fatto video sulla Russia post-rivoluzionaria, ho fatto il video sul perestroika, ho fatto video su tante cose riguardanti storie della Russia e vi lascio tutti i link sotto a questo video, inoltre c'è una playlist dedicata a tutte le cose collegate con la Russia, della storia, così magari nel canale non vi perdete tantissimo, ho creato le playlist suddivise per temi, quindi c'è una playlist dedicata dove ci sono tutte le cose riguardanti la Russia e la storia della Russia. In questo video specificatamente voglio parlare di Lenin perché raccontarvi tante curiosità che magari qui non sanno, in Europa magari non sanno e non ne parlano, chiaramente si sente sempre meno parlare di Lenin perché diciamo che si sta andando anche verso una evoluzione, siamo nel 2017 quindi si parla sempre meno, soprattutto in Europa, ormai è diventato un personaggio storico importante e oggi in particolare volevo parlare di Lenin, delle sue caratteristiche come persona, come carattere, la vita diciamo e tutto il suo percorso anche professionale, lavorativo, è un personaggio super famoso in tutto il mondo, lo conoscono tutti, è un personaggio che ha cambiato la storia non solo della Russia ma la storia anche mondiale e ha creato una sua filosofia e teoria di società, filosofia di vita. Vladimir Ilyich Ulyanov, in realtà Lenin è un pseudonimo, in realtà lui aveva tanti pseudonimi perché scriveva sotto i nomi falsi sempre, tra tanti tanti nomi il suo vero nome è Vladimir Ilyich Ulyanov, quindi il cognome Ulyanov è il nome Vladimir, che poi lui diventa anche Vladimir Lenin, Vladimir Ilyich Lenin, nato lui a Simbirsk nel 1870, è un rivoluzionario russo, politico sovietico e statista, il fondatore del partito operaio socialdemocratico russo, partito bolshevico, il principale organizzatore e il capo della rivoluzione d'ottobre del 1917 in Russia, che è il primo presidente del consiglio dei commissari popolari del governo del RSFSR, creatore del primo stato socialista della storia del mondo e quindi è un personaggio storico molto importante e influente, per alcuni persona più umana del mondo, la persona più onesta del mondo e per altri una macchina fredda di rivoluzione, il fondatore della rivoluzione. È anche uno scrittore marxista, è un fondatore del marxismo-leninismo, è un ideologo, fondatore della terza internazionale comunista, fondatore dell'Unione Sovietica, giornalista, primo presidente dell'SNK. La sfera delle opere politiche giornalistiche di base è la filosofia materialista, la teoria del marxismo, la critica del capitalismo, la critica dell'imperialismo, la teoria e la pratica dell'attuazione della rivoluzione socialista, la costruzione del socialismo e del comunismo e l'economia politica del socialismo. Le opinioni e le valutazioni del ruolo storico di Vladimir Lenin sono caratterizzate da un'estrema polarità. Indipendentemente dalla valutazione positiva o negativa di attività di Lenin, anche molti ricercatori non comunisti lo considerano la persona più importante e il statista più importante rivoluzionario della storia del mondo. Anche le persone che magari non piace, comunque lo reputa una persona molto influente e importante. Vladimir Ulyich Ulyanov, nata a Simbirsk, era un figlio di un ispettore della scuola pubblica, Ilyani Kalevich Ulyanov, che era un figlio di ex servo della Gleba, sposato con Anna Smirnova, figli di commercianti di Astrakhan, questi diciamo erano i nonni, e madre Maria Aleksandrovna Ulyanov, aveva cognome da Nubile Blanc, una discesa svidesi tedesca su una madre in base alle diverse versioni, dicono che il padre era russo e la madre aveva le origini un po' svidesi, un po' tedeschi, un po' ebrei, un po' misti diciamo, per ora erano tutti ortodossi battizzati. Nel 1887 si laurea con la medaglia d'oro e si iscrive alla facoltà di giurisprudenza di università di Kazan. Fino al 1887 non noto nelle attività riduzionali, lui accettò il battesimo ortodosso, era completamente religioso, la famiglia religiosa, lui era ortodosso religioso credente e sempre lui fino a 16 anni apparteneva alla società religiosa di San Sergi Radonischi e nel 1886 si stacca dalla religione. Aveva bellissimi voti a scuola, andava molto bene a scuola, studiava molto. Nel 1885 scrivevano i suoi insegnanti di lui che è un allunno molto bravo, molto dotato, molto competente, molto assido, molto bravo. Il primo premio del comitato pedagogico lo ha preso nel 1880, quindi a scuola era molto bravo. Nel 1887 a maggio suo fratello maggiore Alexander fu giustiziato perché ha partecipato alla cospirazione di Narodna e Avola, era un gruppo chiuso, era un gruppo di giovani ragazzi, Narodna e Avola si chiamava, con lo scopo di assassinare l'imperatore, insomma andavano contro l'imperatore, contro lo tsari. E quando li hanno scoperti questi ragazzini che spicolavano dietro, le hanno praticamente uccisi tutti, sono stati giustiziati. Questa morte improvvisa del fratello lo colpisce tantissimo e da lì lui si converte completamente e cambia da così a così praticamente. Per lui e per la famiglia è stata una tragedia pazzesca e lui chiaramente che non sospettava le attività riluzionarie, non sapeva del fratello ancora, non sapeva di che cosa sta facendo e non sapendo che cos'è, alla fine lui si converte, diciamo. All'università è coinvolto nel circolo studentesco illegale, sempre Narodna e Avola, alla fine diretto da Laser Bogoraz, in realtà anche lui poi entra a far parte di Narodna e Avola. Tre mesi dopo la sua missione è stato espulso per la partecipazione, secondo l'ispettore degli studenti soffriva di disordini studenteschi, Uliano era all'avanguardia di studenti infuriati, quindi lui che guidava i ragazzi infuriati, diciamo già lì inizia a ribellarsi, c'è stata la prima ribellione sua, come contro anche lo tsari, contro l'imperialismo sempre, già in questa fase qui. Vladimir è stato anche arrestato, è stato inviato in una stazione di polizia, lo tengono in prigione, alla fine gli fu permesso di tornare a Kazan e sempre lì a Kazan nel 1888 lui praticamente entra nei cerchi marxisti, organizzati da Fidassiev, dove ha studiato il discusso delle opere di Marx, Engels e Plekhanov. Nel 1924 nel giornale e nella Gazzetta Pravda scrivono che Plekhanov adora Lenin con passione, Plekhanov ha svolto un ruolo importante nel sviluppo di Vladimir Ilich, aveva aiutato a ritrovare l'approccio rivoluzionario corretto, ogni lieve di disaccordo con Plekhanov ha sofferto dolorosamente. Insomma lui crea questa famiglia marxista-leninista e loro creano questi circoli, questi gruppi di persone che hanno le stesse idee, dove condividono queste idee e iniziano già di loro a scrivere anche nei giornali, entra anche già a essere un po' famosi. Nell'altunno del 1889 la famiglia Giuliano si trasferisce a Samara, dove Lenin ha mantenuto anche il contatto con i rivoluzionari locali, quindi c'è un po' di rivoluzionari di qua e un po' di rivoluzionari di là e infatti è quella anche che lo spinge, perché la vita lo porta poi a viaggiare in Europa a destra e a sinistra e di conseguenza lui conosce le persone lì, conosce le persone di lì, rivoluzionari di qua e di là, alla fine le raccogli e poi succede la rivoluzione alla fine. Nel periodo tra 1892-93 le opinioni di Lenin sotto la forte influenza delle opere di Plekhanov si sono evoluti, quindi è passato dal popolare al socialdemocratico, prima era popolare e poi passa al socialdemocratico. Allo stesso tempo nel 1893 ha sviluppato una nuova dottrina per dichiarare la moderna Russia, dove i quattro quindi della popolazione erano contadini, bisogna anche dire che paesi russo erano abbastanza ritratto, erano molto indietro, agricolo, contadino, eccetera. Un paese capitalistico, secondo lui. L'idea di Leninismo è stata formulata nel 1894 che l'opera è russo, salendo alla testa di tutti gli elementi democratici, rovescia l'assolutismo e guiderà il prioritario russo accanto al prioritario di tutti i paesi, ritilinio di lotta politica aperta alla vittoriosa rivoluzione comunista. Questa è l'idea del Leninismo. Nel maggio 1895 Uljana viaggia all'estero dove incontra in Svizzera Plekhanov, in Germania Liebknecht, in Francia e altri paesi incontra tanti altri movimenti internazionali del lavoro, tanti rivoluzionari da varie parti dell'Europa e del mondo e alla fine poi ritorna a San Piterburgo e insieme ad altri giovani rivoluzionari ha riunito i cerchi marxisti sparsi nell'alleanza per la liberazione della classe operaia. Sotto l'influenza di Plekhanov, Lenin partì parzialmente dalla sua dottrina proclamando Russia zarista un paese capitalista, dichiarandola mezza feudale. L'obiettivo immediato per lui è quello di rovesciare il potere della nazione. In alleanza con la borghesia liberale, l'alleanza per la lotta è stata attiva nella sensibilizzazione tra i lavoratori e ha prodotto più di 70 volantini. Nel dicembre 1895, come molti altri membri dell'Unione, Ulyanov è stato arrestato, tenuto in prigione per più di un anno e espulso più di tre anni al villaggio Shushenskaya nel 1897. Con la compagna Krupskaya non erano sposate ancora e questa donna qui è una delle donne più famose in Russia, è una delle donne più influenti credo è stata in Russia. Krupskaya è la sua moglie che poi diventa moglie e è un personaggio a parte. Poi un po' ve ne parlo anche di lei. All'inizio loro non erano sposati però quando lui va in esilio lei voleva raggiungerlo e chiaramente non parenti non potevano andare lì in esilio con lui e quindi loro erano costretti a sposarsi perché se lui non la sposava lei non lo poteva raggiungere chiaramente in esilio e loro erano attaccatissimi, erano sempre insieme così. Quindi loro registrano il matrimonio nel luglio 1898, soltanto i matrimoni ecclesiastici furono riconosciuti in Russia all'epoca, quindi Lenin a quel tempio era già ateo, si distacca completamente dalla chiesa, si sposa in chiesa identificandosi ufficialmente come un ortodosso, quindi fanno un rito religioso, quindi si sposano. L'intelligence dello zar trova la traccia del giornale Iskra a Monaco di Baviera, così nel mese di aprile 1902 il giornale si trasferì da Monaco di Baviera a Londra. Da aprile 1902 ad aprile 1903 Lenin con moglie vive a Londra sotto cognome Richter, una casa vicino al British Museum dove Vladimir lavorava spesso. Alla fine di aprile Lenin e sua moglie si trasferivano da Londra a Ginevra in connessione col trasferimento del giornale Iskra a Ginevra vissero fino al 1905. La rivoluzione del 1905 e 7 ha colto Lenin all'estero in Svizzera. Al terzo congresso tenutosi a Londra Lenin sottolinea che il compito principale della rivoluzione era quello di porre fine al potere e ai resti della schiavitù in Russia. Alla prima occasione all'inizio di aprile Lenin illegalmente sotto falso nome arriva a San Peterburgo e guida il lavoro del congresso eletto dai comitati centrali di Peterburgo e dei bolshevichi. Sotto la direzione di Lenin il partito stava preparando una ribellione armata. Allo stesso tempo Lenin scrive il libro Due tattiche di democrazia e sociale nella rivoluzione democratica che indica la necessità di egemonia del pluritaliato e la ribellione armata nel 1901. Lenin ha scritto in linea di principio non abbiamo mai rifiutato e non possiamo rinunciare al terrore, quindi per lui terrore era importante. Questa è una delle azioni militari che possono essere molto appropriati e anche necessarie in un momento noto di battaglia, nelle condizioni delle truppe e nelle note condizioni, quindi terrore. Al gennaio 1908 Lenin ritorna in Ginevra, la sconfitta della rivoluzione non lo costringeva a piegare le mani e riteneva inevitabile che l'ascesa rivoluzionaria si ripetesse. Quindi fa tesi di aprile, di tesi di aprile della rivoluzione russa, io ho già parlato in un video, la chiesa ortodosso russa è stata prima ad essere chiaramente molestata a essere messa sotto mira, allo stesso tempo per esempio i musulmani, le religioni musulmane, la fede musulmana è stata vista come un alleato, i musulmani erano alleati nella diffusione della rivoluzione del mondo dell'oriente da Lenin, quindi i musulmani erano in aiuto a questa cosa qui della rivoluzione. Nel novembre tra il 17 e il 19, privare la chiesa dei diritti giuridici, privando il clero dei diritti politici, iniziando la chiusura dei monasteri, alcuni tempi e requisire le loro proprietà. E poi anche l'autopsia delle reliquie sacre. Dalla fine del 20 l'organizzazione della chiesa è divisa, dall'inizio del 1922 il saccheggio di tutte le chiese è uccisione di un numero massimo di ministri religiosi ortodossi. Alla fine tutta la parte rivoluzionaria è durata 20 anni, tutta la preparazione per la rivoluzione è durata 20 anni, tutte queste dimostrazioni di massa ce ne sono stati e alla fine diciamo che tanti, tanti, tanti dopo il 1905 scrivevano le sue tesi, tanti volevano fare la rivoluzione ma alla fine lui ha raccolto tutti e alla fine è riuscito a fare la rivoluzione e questo diciamo è stato. Fatti di interessanti su Lenin che lui aveva un accento particolare su, cioè una voce, un timbro di voce particolare e aveva la R moscia per esempio. Un'altra cosa interessante che non era altissimo, era un metro e sessantaquattro di altezza, che in Russia c'è un vasto culto intorno al nome di Lenin, soprattutto durante il periodo sovietico era un culto, era un mito, l'ex capitale Petrogrado fu ribattizzata Leningrado in nome di Lenin, in Russia ci sono le città, le vie, ogni città russa c'ha piazza Lenin, c'ha la via di Lenin, c'ha un monumento di Lenin, c'ha la strada di Lenin, monumenti eccetera eccetera. Le citazioni di Lenin sono state presunte in pubblici e nelle opere scientifiche quindi Lenin diventa un simbolo della rivoluzione, quasi diventa simbolo della Russia e soprattutto dell'Unione Sovietica. Un'altra cosa importante è come lui è morto e come lui è andato via dalla scena, come lui è uscito in scena molto così come un avvenimento molto importante e è andato via di scena anche abbastanza velocemente perché poi è subentrato Stalin e tanti sostengono che era stato proprio Stalin che l'ha levato un po' dalla scena perché Stalin voleva levare tutti quelli che hanno iniziato alla fin di questa rivoluzione e voleva rimanere solo lui, c'è stata la corsa al potere, pazzesca. Lenin aveva una sorta di depressione, ha avuto tre insulti, non parlava più, non camminava più, non si muoveva, praticamente aveva una malattia che il cervello si autodistrugge da solo fisiologicamente, problemi con i nervi, sistemi nervosi del cervello, mentre Stalin e il partito dicevano che aveva il sifilide, invece non è vero, non c'erano mai stati i documenti che confermano che aveva il sifilide, in realtà aveva questa malattia della testa, diciamo, del cervello, in realtà poi hanno invitato i dottori tedeschi, l'hanno praticamente, l'hanno rincluso in una casa fuori città e non hanno avuto, non l'hanno fatto nemmeno più, né parlare, né uscire, né venire al partito, né parlare al pubblico, praticamente l'hanno rincluso, era diventato un carcere, in realtà doveva essere tipo una casa di riposo, casa di cure e quando lui stava ancora bene con la testa, quando lui stava ancora bene, tutto l'hanno già lì rincluso, quindi un po' lui lì per lì voleva anche morire lì per lì, e tanti soldi hanno speso, ci sono venuti tanti dottori anche dell'Europa e non per capire la malattia, come si può guarire, eccetera, eccetera, ma alla fine nessuno non ha fatto una diagnosi precisa, hanno speso fior fior di soldi, insomma, e nessuno lo sapeva, per lui è stato come un carcere, come un manicomio, è stato isolato da tutti, i sovietici non sapevano niente, nessuno chiaramente non gli ha detto niente, loro pensavano che lui è andato diciamo in pensione, vive lì in casa in campagna, si riposa, si rilassa, eccetera, eccetera, lui in realtà questo isolamento fuori da tutti, dal mondo, l'ha sofferto tantissimo, scriveva tantissime lettere al giorno a Zierzynski, a tanti altri suoi amici rivoluzionari, scriveva che diceva io sono isolato dal partito, sono isolato dalla società, mi sento in carcere, mi sento in manicomio, portatemi fuori, prendetemi, fatemi uscire e bla bla bla, queste lettere non arrivavano mai a nessuno, quindi è stato abbandonato a se stesso lì da solo, chiaramente c'erano dei servi, c'erano dei servizi, c'era la moglie con lui sempre attaccata, però lui soffriva tantissimo, lui era pazzo, era impazzito da questa reclusione diciamo, e lui pensava di essere normale, ma in realtà lì per lì è già impazzito, è andato chiaramente in depressione perché era stato chiuso da tutti, isolato da tutti, in paranoia in depressione, lui diceva a tutti che aveva paura di essere avvelenato, aveva paura di essere avvelenato, aveva paura che qualcuno lo potrebbe ammazzare, lui sentiva che qualcuno lo voleva uccidere, a un certo punto lui si voleva suicidare, poi chiedeva che qualcuno lo potesse uccidere insomma a qualcun altro, non sapeva chi potrebbe essere queste persone perché la moglie sicuramente non l'avrebbe mai fatto, e a lui l'unica persona che lo poteva fare, che lo poteva uccidere era Stalin, e lui ha detto a Stalin guarda io non ce la faccio più, ammazzami, e Stalin l'ha portato al partito, ha fatto una riunione e ha detto a tutto il partito, dice guardate lei è talmente pazzo che vuole che lo uccidiamo, chiaramente il partito ha detto no assolutamente no, non lo possiamo fare una cosa del genere, e che tra l'altro poi negli ultimi periodi lui aveva paura di Stalin, Lenin aveva paura quando veniva Stalin da lui, e Stalin ha litigato con la moglie di Lenin, l'ha chiamata prostituta, l'ha chiamata una donna stupida, e Lenin nel diario, perché Lenin scriveva nei diari, scrive che io sono diventato il suo nemico, è la mia fine, lui mi ammazzerà, è la mia fine, io sono un nemico di lui, lui ha parlato male, ha trattato male la mia moglie, eccetera eccetera. Quindi diciamo è stato un misto di isolamento, pazia, depressione, malattia cerebrale, è stato tutto un insieme di cose che l'hanno portato alla morte, che tra l'altro non è neanche morto così vecchio, era abbastanza giovane, è completamente impazzito, e lui non parlava più, faceva solo dei suoni strani e basta. Quando è morto, subito, hanno preso il suo cervello, viso e mani, e hanno fatto una copia in gesso, e l'hanno subito balsamata. Quindi il cervello l'hanno messo in un istituto. Nel frattempo, in Piazza Rossa, velocemente di corsa, stanno costruendo un mausoleo. Anche quella è una cosa particolare. Il mausoleo ha la forma di sicurati, erano antiche piramidi della Mesopotamia, molto antiche, che rappresentano una tana per l'anima, e secondo la leggenda l'anima, il corpo che viene messo in queste specie di piramide, e l'anima rimane lì per sempre, rimane lì chiusa, in questo spazio. C'è anche un museo di Lenin, da lì, diciamo, da quando l'hanno balsamato lì, lui sta lì, già quasi 90 anni, lui sta lì sotto il vetro, dentro il mausoleo di Lenin. Ogni tanto lo tirano fuori, lo rimbalzamano un'altra volta con, insomma, con vari disinfettanti, eccetera, eccetera, lo ricambiano, lo rivestano, eccetera, eccetera. Unica cosa quando lui era stato spostato fuori da lì, era quando i tedeschi sono entrati in Russia e Hitler voleva prendere Mosca, in quell'occasione lì, tutti avevano seriamente paura che Hitler potesse rapire il corpo di Lenin, potesse fare qualcosa, potesse danneggiarli, e l'hanno mandato a Tiumeni, quindi il corpo di Lenin è stato portato fuori, mentre il cervello sta nell'istituto del cervello a Mosca. E nello stesso tempo, quando Lenin è morto, tutte le persone dovevano comunque pensare che lui è vivo e vivrà ancora per sempre. Ebbene, Lenin Gilles, Lenin Gilles, Lenin Budi Gilles, dicevano che Lenin ha vissuto, Lenin vive, Lenin sta vivendo e vivrà ancora. Quindi era, diciamo, tutta una frase così, ma è stata comunque una persona che deve essere viva nel ricordo di tutto e deve essere viva, deve mantenere la sua vita nel ricordo di tutti quanti. Due parole sulla sua moglie, Nadia Gilles Konstantinina Krupska, una donna intelligentissima che lo sosteneva in tutto, non è stata, diciamo, bellissima, ok? E tutti, infatti, i suoi amici dicevano che Lenin poteva trovare sicuramente la donna molto più bella, ma più intelligente, più brava, più colta di lei non poteva trovare, non esisteva. Lei è stata per lui un amico, un compagno, un tutto, un tutto è stata lei per lui. Lei era con lui attaccata sempre in esilio, dove andava lui andava lei, lavorava, le aiutava, le stava dietro, erano i amici, i compagni. Diciamo che c'è stato anche l'amore, ma secondo tanti che quelli che sostengono lui non hanno potuto avere figli, perché lei non poteva, non hanno avuto figli e lui aveva anche un amante. Poi parlerò anche dell'amante che nessuno non sa, pochissimi sanno che lei ne aveva un amante. Praticamente lei, Nadia Gilles Konstantinina Krupska, per il resto della sua vita è comparsa nei giornali, dopo anche la sua morte, è stato un membro centrale, fu eletta anche come diputato dei soviet, del supremo dell'Unione Sovietica, lui è stato conferito il dottorato in scienze pedagogiche, lei è stata cremata anche lei, le sui ceneri sono state poste nel muro in Piazza Rossa in Cremlino, piccole curiosità che lei sapeva cucinare molto male, non sapeva cucinare, però era fedelissima a Lenin. dopo, dicono che non poteva avere figli, perché tra esili, perché anche lei è stata in esilio, lì ci sono state condizioni molto, molto difficili, molto pesanti per una donna e di conseguenza lei non aveva più salute. Quando è tornata dall'esilio non aveva più né salute né niente in più, è morta anche la mamma, è stata un po' depressa, quindi fisicamente anche non ha potuto avere figli, insomma. Però tanti sostengono che Lenin nel frattempo aveva avuto un amante che amava tantissimo, era Inessa Armand, era un aiutante, amante, lui le scriveva le lettere, ci sono state trovate tantissime lettere dove lui le scriveva io ti amo, io ti voglio baciare, io voglio stare con te, lui sapeva che c'è la moglie, tutto il partito sapeva che c'è questa Inessa Armand, tutti sapevano, la moglie lo sapeva, chiaramente la moglie è talmente fedele, è talmente presa da lui che le permetteva di fare di tutto e di più. C'è leggenda che loro hanno fatto anche insieme una figlia e c'è la leggenda che c'è un erede di Lenin e in realtà da qualche parte nel mondo c'è la figlia o il nipote o che, quindi diciamo che ci sono stati degli eredi di Lenin. Lei è morta di colera prima di lui, quindi lui l'ha sofferto tantissimo la sua morte e questa è anche una curiosità in più. Cosa possiamo dire di Lenin? È stata una persona straordinaria, tanti quelli che l'hanno conosciuto, c'è un museo di Lenin a Mosca e le persone che lavorano, ho visto tanti vari documentari e le persone che lavorano lì in quel museo, che dedicano la vita chiaramente, il museo dove lui è morto, diciamo, rimasto lì, dicono di lui che aveva un'energia spaziale, aveva un'energia pazzesca e lui al giorno poteva scrivere 500 pagine di riflessioni, di trattati, di idee, di qualcosa, di temi, cioè 500 pagine al giorno scriveva, scriveva ininterrottamente, va detto che parlava nove lingue, nove lingue, chiaramente tutte le lingue europee, russo, eccetera, eccetera, era un genio, era una persona molto geniale. Tanti dicono che è stata tutta questa cosa, la rivoluzione e tutta questa cosa qui da lui è stata vista da lui proprio nei suoi occhi e da lui è stata vista come un grande esperimento sociale. Lui ha fatto un grosso esperimento sociale e tanti dicono che finché non lo si appelliscano questo esperimento sociale continua e sarà ancora in movimento, diciamo. Tante persone anche che l'hanno studiato dice che lui rideva, lui rideva di questa cosa qui, ci sono state vite, persone, morivano, la storia del paese cambiava, tutto insomma un casino nel paese, rivoluzioni, muoiono uzzare, muoiono persone, eccetera, eccetera, sta cambiando il mondo e lui rideva su questa cosa qui. Per lui è stato tutto un grande esperimento sociale, lui era posseduto dalla vendetta per fratello, per tante altre persone, era sicuramente un genio, era sicuramente una persona geniale perché altrimenti non poteva fare tutte queste cose che ha fatto e non poteva rimanere nella memoria di tutti. Questo è tutto il video su Lenin, ho cercato di renderlo più sintetico possibile, ho cercato di raccontare più curiosità particolari che magari qui non raccontano mai, nessuno non sa, spero che questo video vi sia stato utile, spero che ho raccontato qualcosa in più che voi non sapevate. Ho cercato di inserire più informazioni utili, più informazioni interessanti possibili. Grazie per l'attenzione, scrivetemi le vostre idee sotto nei commenti, sono sempre molto belle, fatemi sapere cosa vi piacerebbe vedere, vi auguro una buona giornata, ciao a tutti, oficiva e no ho domani. ... ... ...